Pyramid Azir, activated. Ciao Warriors, un buon pomeriggio da parte di Angel e bentornati nella piramide. Siamo tornati con FIAR. Bene, siamo sopravvissuti a un attacco a quanto devastante. Inflitto per di più da una ragazzina che si insinuava tra le fiamme. Tomcat, sembra che non potrò mandarvi i rinforzi per un po'. I miei elicotteri sono appena stati dirottati sulla sede dell'Armacam. Succede qualcosa di grosso. Non scherzare, ci sono i miei ragazzi lì. Lo so, vorrei essere io a decidere. Si tratta degli stessi cattivi? Sembra di sì, non abbiamo molti dettagli. Suppongo non sia più un'operazione in copertura. Ah, e? All'Armacam? Prevedo guai. Mi sa che stiamo per ricevere visita. Lucetta rossa. Hai un nuovo messaggio. Mai, che diavolo sta succedendo lì? Sembrava un'esplosione. Non riesco a mettermi in contatto con nessuno. Richiamami. Fine dei messaggi. Chiunque tu sia, mi dispiace doverti deludere, ma qui non c'è più nessuno. Sono o morti, oppure sono stati liquefatti. Grande. Andiamo. Un momento. C'è una fiaro là sotto. no. Ricordavo male. C'è troppo silenzio. Tu... Tu... c'è sangue perfino nel soffitto calma va tutto bene ecco 12 una possibile intrusione segnalata nelle tue vicinanze noi non abbiamo visto niente ricevuto tenete gli occhi aperti stiamo cercando aspettate qui versato avvistato giù servono rifarci giù 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 A presto. Resistente. Echo 12 non risponde. Servono rinforzi? Negativo. State fermi. Oh ma... Al rapporto. Servono rinforzi. Adesso! Minaccia avvistata! Non ci provare! Ok. E qui siamo a posto. Ah... Una corazza fiammenta. E abbiamo anche una granata. Perfetto. Ah... Qua devo stare attento. Qua bisogna stare attenti. Questa è la situazione. Granata! Al riparo! L'avevo già ammazzato. Ho tirato una granata per niente. Ho tirato l'unica granata per niente. Oddio, è vero. Oh, stile! Oh, stile! Levati dai piedi. Ok. Ok. E tu che cosa hai da darmi? Oh, munizioni per la metraglietta. Grazie. Grazie. Venite qua a balle. Alcuni portati e li contengono informazioni utili. Attiva il portatile per accedere ai dati che contiene. Beh, vediamo cosa contiene questo. Sto caricando i dati adesso. Ho trovato l'analisi delle acque reflue indirizzata a una commissione di revisione di Armacam. Segnala una serie contaminazione proveniente da monte. Chissà perché l'Armacam se ne interessa. A meno che non sia responsabile. Sono pronto ad accogliere qualsiasi ipotesi. Anche la più assurda. Sousiاح. Chissà. Chissà. È so. N sugar. Hmm. Alsi christ! Vuola. Che è il prossimo? A te al massimo ti serve la barella Almeno stavolta me la sono cavata bene Ogni volta che finisco in questo punto Va a finire in due modi O muoio Ok scusate Ok scusate Penso che dovremmo farci una notata Ok scusate Ok scusate Ok scusate Ok scusate Ma che sta succedendo qui? Ok scusate Se vi è piaciuto Lasciate un like per supportare la serie Se non l'avete già fatto iscrivetevi per supportare il canale Vi mando un abbraccio enorme e con FIAR come sempre ci rivediamo mercoledì Piramide Asir di Seibol Ok scusate Ok scusate Ok scusate Ok scusate